Amici di Sportac, buon anno e buone feste passate. Quest'anno inizieremo con una nuova bolletta, facciamo una bolletta made in Italy. Con le osfamure alle spalle, saluta Leo. A tutti. Allora iniziamo così, Napoli-Sampdoria 1 handicap, Parma-Torino gol, Lazio-Inter gol, Udinese-Verona la sorpresa all'1 dell'Udinese, del filo del cuore. Genova-Sassuolo 1, Milan-Atalanta 1, Catania-Volonia 1, con 10 euro e 778 euro. Un saluto agli amici di Sportac, anche dalle osfamurri e da Marco Verratti e Cere Mobile.